Ciao, bentrovati, qui è sempre Max di Onirotarologia. Oggi parliamo di proverbi. C'è un proverbio molto curioso, molto simpatico, che ora cercherò di recitare con il mio dialetto napoletano molto stentato, che dice così Spero che chi mi segue di Napoli non mi maledica per questa pronuncia pessima, però l'idea è questa. Il cane morde, mozzica, mozzica, lo stracciato, lo straccione, il diseredato, il più sfigato. Ecco, in realtà in Emilia Romagna non credo ci sia un proverbio analogo. So che ce n'è uno similare in Abruzzo, che ora non sto a recitare sempre per paura di deludere anche i miei seguaci follower abruzzesi, però l'idea è sempre quella. Il cane segue e morde, mozzica, lo straccione. Il più sfigato di tutti. Avrete già capito per questa rubrica che tratta di tarocchi dove andrò a parare. Perché indovinate un po'? C'è un arcano maggiore dei tarocchi che dice esattamente questo, o meglio che riporta fedelmente questa scena. Ora, se volete divertirvi, mettete in pausa, provate a scervellarvi o a sfogliare gli arcani maggiori se non li conoscete, e indovinerete, ne sono sicuro, qual è questo arcano maggiore. Ok, mettete in pausa, provate a fare questo gioco. Ok, avete visto, il matto. Cioè negli arcani maggiori c'è esattamente questa scena. Un cane, lo vedete, che morde le terga di un matto, appunto, di un folle, di uno straccione. Le sue vesti sembrano in effetti stracciate, esattamente come nel proverbio. Qual è il significato, qual è la metafora di questo proverbio? La potremmo rendere in questo modo. Piove sul bagnato. La sfiga ci vede benissimo. In abbinamento al matto, allora, cosa ci può comunicare questo proverbio? Il matto, in effetti, sembra essere aggredito continuamente, costantemente da questo cane dietro di lui. E badate bene perché lo aggredisce, perché gli dà le spalle. È quella dinamica che si riscontra nei sogni, ma di questo ne ho parlato tante volte, in cui più noi ignoriamo degli animali selvaggi che ci inseguono, più questi diventano aggressivi e lo fanno per risvegliare la nostra attenzione. In realtà quel cagnolino non cerca altro che attirare l'attenzione del matto. Ma fino a che questo matto continuerà ad ignorare questo cane? E il cane cosa rappresenta? Il destino crudele che si diverte a ghermirlo. Ma questo destino crudele, se ci rifacciamo agli insegnamenti di Jung, è una materializzazione del suo inconscio. Secondo la visione splendida di Jung che dice tutto ciò che tu ignori di te stesso e quindi va a sedimentarsi nel tuo inconscio non è che sparisce, ma si tramuta in destino. Cioè quello che tu chiami destino non è altro che ciò che ti rifiuti di vedere e per cui sotto forma di energie ostili e che tu percepisci come nel mondo che si accanisce su di te, in realtà è il tuo inconscio che cerca di materializzarsi per insegnarti che cosa, agirarti e renderti conto che quel cane che te mozzega, te come si pronuncia, il sedere, in realtà è una parte animalesca di te che stai ignorando. Bene, spero di essere stato chiaro. Continuate a seguirmi per questi bellissimi video dove parleremo di tarocchi e di sogni. A presto, bau bau, ciao ciao.